Hai una passione per il mondo del vino e in generale all'enogastronomia? Ti piace stare in contatto con le persone? Hai un ottimo olfatto, un buon gusto? Ti interessa il rapporto tra eccellenza e territori? Sei interessato alle attività e alle realtà vitivinicole? Se la cultura del vino ti attrae e oltre a questo non ti spaventa l'idea di viaggiare, aggiornarti e studiare, allora potresti essere la persona adatta a svolgere la professione di sommelier. Ciao, sono il professor Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, una business school che eroga i migliori master per il settore digital. In questo video ti voglio spiegare come si diventa un sommelier. Iniziamo col dire che il sommelier è un professionista del settore vinicolo, addetto alla selezione e al servizio dei vini. La sua principale competenza riguarda appunto la degustazione, quindi è in grado di effettuare un'analisi organolettica del vino, ne sa valutare la tipologia, le tonalità cromatiche, le qualità e le caratteristiche olfattive, oltre che lo stato di conservazione. Però attenzione, non dobbiamo fare confusione. non è un assaggiatore di vini, ma ha competenze assai più complesse, che includono la conoscenza degli abbinamenti con il cibo, la presentazione e il servizio, oltre che le conoscenze degli strumenti gestionali necessari per prendersi cura di una cantina come si deve. Quindi i sommelier lavorano principalmente nel mondo della ristorazione e nel settore alberghiero, possiamo dire anche in particolare negli hotel e nei ristoranti di lusso, però anche in cantine, in enoteche e in wine bar. Quando il sommelier lavora in un ristorante o in un locale, la degustazione è funzionale ad un corretto abbinamento tra il vino ed il piatto. E sempre in collaborazione con il metri sala, lo chef o il restaurant manager, si occupa di progettare e di preparare la carta dei vini. Un ruolo decisivo ed importante per il successo del locale. Inoltre garantisce un servizio attento e professionale, quindi prende gli ordini delle bevande, ma suggerisce anche il migliore abbinamento, cercando appunto di soddisfare quelli che sono i gusti e i desideri dei clienti. Quindi per far questo deve saper chiaramente descrivere le caratteristiche di un vino sia con un lessico tecnico, ma anche con un linguaggio che sia comprensibile a tutti i commensali. E chiaramente li deve invogliare ad assaggiare e a comprare ovviamente il vino. E come abbiamo detto prima, si occupa anche della gestione della cantina, quindi la mantiene sempre rifornita delle diverse tipologie di vino che ovviamente ha scelto, occupandosi anche spesso della parte di trattativa e di ordine con i fornitori. Nei ristoranti di lusso, chi ha una formazione da sommelier e dimostra particolare abilità nella creazione della carta dei vini e ha spiccate capacità nel mantenere degli standard di servizio molto elevati, può anche far carriera, diventando ad esempio un head sommelier. Figura che dirige un'equipe specializzata che risponde direttamente al restaurant manager. Nei locali di piccole dimensioni invece spesso è lo stesso metro a svolgere la funzione di sommelier, oppure potrebbe essere direttamente anche il ristoratore. Un aspetto importante, che può anche sembrare curioso, è che il sommelier si distingue proprio per l'abbigliamento che indossa. Deve essere elegante e funzionale, e questa divisa lo distingue appunto dal resto della brigata di sala. Oltre che essere assunto nei locali, può lavorare anche come consulente libero professionista presso le aziende vitivinicole. E qui si potrà occupare del vino a tutto campo, quindi migliorare i vini e rendere più accattivante la comunicazione della qualità del vino prodotto. In questo caso possiamo anche parlare un pochettino di marketing del vino. Poi può organizzare e guidare le degustazioni in cantina e accompagnare gli ospiti in visita dai produttori del territorio. Poi ci sono un sacco di altre possibilità di impiego. che sono nell'editoria, quindi scrivendo per le riviste di settore, che sono molto apprezzate e molto lette. Nella formazione, tenendo appunto corsi rivolti a chi aspira a diventare sommelier. Nel settore commerciale, come manager esperto nell'importazione e nell'esportazione del vino. Nella partecipazione a eventi, come le competizioni, i concorsi sia a livello nazionale che a livello internazionale, proprio in qualità di esperto. E anche nella consulenza alle aziende della grande distribuzione organizzata, le GDO, chiaramente per la scelta dei prodotti. Ma ora vediamo qual è il percorso di studi per diventare un sommelier. Allora, per essere un sommelier serve un attestato specifico, che si ottiene chiaramente facendo un corso di formazione, dove al termine si deve sostenere anche un esame. Nei corsi per sommelier si trattano materie come viticultura, enologia, enografia, che sarebbe la distribuzione territoriale dei vini e della loro coltivazione, ma anche di tecniche di degustazione e legislazione vitivinicola. Un altro aspetto che si studia in modo, diciamo, molto approfondito, è l'abbinamento del vino con il cibo. È fondamentale per un sommelier, infatti, che sappia abbinare con gusto e precisione scientifica un vino ad un piatto. Ed anche come curare e gestire la cantina è una materia di studio. La valutazione delle esigenze, le previsioni del budget, la predisposizione del business plan, la valutazione e la selezione dei fornitori, ma anche la trattativa. Corsi ce ne sono molti, ma i principali sono erogati da FISAR e AIS. La FISAR, Federazione Italiana Sommelier e Albergatori e Ristoratori, è un'organizzazione senza scopo di lucro, nata nel 1972 e riconosciuta giuridicamente dallo Stato con lo scopo di dare valore alla cultura del vino e alla professione del sommelier. Quindi organizza corsi di formazione di livello base e di livello superiore, ma crea anche eventi, opportunità di network, e ha sviluppato anche una rivista di settore e addirittura un'applicazione ufficiale. Poi c'è l'AIS che è l'Associazione Italiana Sommelier ed è un'organizzazione senza scopo di lucro nata nel 1965. Anche qua si organizzano corsi di sommelier, seminari, master, eventi e concorsi in campo vinicolo a tutto tondo. Inoltre ha sedi e delegazioni nelle diverse regioni d'Italia. I due programmi di AIS e FISAR sono praticamente simili. Entrambi sono percorsi organizzati in tre livelli. Prevedono una durata complessiva di tre trimestri, quindi uno per ogni livello, ciascuno della durata di circa sei mesi. La frequenza è obbligatoria e ci sono cinque anni di tempo per completare il percorso. In tutti e due i casi, sia con AIS che con FISAR, si può scegliere di fermarsi al primo o al secondo livello. Ma attenzione, per diventare sommelier è necessario completare anche il terzo e sostenere chiaramente l'esame finale. Il costo complessivo è più o meno uguale, parliamo di circa 1.500-1.600 euro di corso, a cui però dobbiamo aggiungere le quote di iscrizione, eccetera eccetera, ma si arriva intorno ai 2.000 euro. Poi ci sono tantissimi altri corsi, ti conviene valutare quello più adatto alle tue esigenze. Ma ora parliamo anche dell'argomento che piace un po' di più in questi video, ovvero quanto guadagna un sommelier. Allora, lo stipendio medio di un sommelier è di circa 34.000 euro l'ordi l'anno, che sono circa 1.800 euro nette al mese, che è superiore diciamo di 250 euro, circa un 16%, rispetto alla retribuzione mensile media in Italia. Attenzione però, lo stipendio entry level è di circa 15.000 euro l'ordi l'anno, mentre lo stipendio massimo può superare anche i 70.000 euro l'ordi l'anno. Entrando invece nel dettaglio della professione, cosa serve davvero per essere un sommelier? In generale, per svolgere il mestiere di sommelier, occorre comunque tanta passione per il vino, una certa cultura e tanta esperienza, oltre che chiaramente a una buona preparazione di base. Diciamo che è un ottimo equilibrio tra hard skills e soft skills. Parliamo delle hard skills. Ci va una conoscenza delle principali regioni vitivinicole nel mondo, quindi enografia, una conoscenza della storia del vino, delle tecniche culturali ed enologiche, vitigni, che si chiama ampelografia, conoscenza delle principali normative legate alla produzione del vino, ma anche una conoscenza delle tecniche per le diverse tipologie di degustazione, quindi il colore, il profumo, il gusto. Una super capacità di realizzare abbinamenti cibo-vino, una conoscenza, come abbiamo detto, della gestione della cantina e soprattutto della conservazione dei vini. Deve avere conoscenza delle regole di servizio di sala, delle norme di galateo e una conoscenza della legislazione vitivinicola. E poi c'è anche il saper utilizzare gli strumenti professionali, quindi tutti i bicchieri, decanter, cavatappi vari. E ora parliamo anche delle soft skills. Deve avere ottime capacità percettive, gustative ed olfattive. Chiaramente una buona memoria non guasterebbe mai, proprio per ricordare con precisione i nomi e le caratteristiche di questi vini e di questi vitigni. Ci va molta cura per i dettagli, molta manualità e precisione, tanta attitudine al servizio. Chiaramente per servire e consigliare la clientela riguardo ai vini con gli abbinamenti del cibo, come abbiamo detto prima, perché ogni dettaglio in questo caso può fare la differenza e la parola giusta può decretare il successo di una cena. E poi deve avere una certa sensibilità, per esempio nel notare qualsiasi malcontento della clientela, gestire i problemi con i prodotti venduti. Quindi considerato che accertare la qualità e la corrispondenza con quanto richiesto è una responsabilità del sommelier. Stiamo parlando di parlare con i clienti, quindi deve avere assolutamente delle capacità comunicative, sia con la clientela, ma sia con i colleghi e anche con i fornitori. E consapevolezza chiaramente del proprio ruolo. E in questo caso consiste nell'essere proattivi, cosa che può fare chiaramente la differenza nella qualità del servizio offerto. Il sommelier poi deve avere ottime doti relazionali, deve essere in grado di sviluppare quelle relazioni professionali di qualità, sia con la clientela che tornerà proprio perché c'è lui, ma anche con i fornitori, cosa importantissima in questo settore che si basa quasi tutto sulla fiducia e sul passaparola. Parliamo poi di tatto, eleganza, educazione, sia gestuale chiaramente che verbale. Si lavora in ambienti molto formali ed è una professione a contatto con una tipologia di clientela molto esigente e molto attenta all'etichetta. Parliamo adesso degli ostacoli. Allora, la formazione non va sottovalutata chiaramente, è un percorso molto serio, quindi molto complesso. richiede frequenza e abbastanza allenamento. Poi chiaramente c'è bisogno di aggiornamento continuo, siccome i prodotti che escono sul mercato sono tanti, sono nuovi, quindi bisogna essere sempre sul pezzo. Ci va una disponibilità a viaggiare, a lavorare nei fini di settimana, ovvero si lavora quando gli altri vanno a mangiare fuori. In conclusione possiamo dire che si tratta di un lavoro molto gratificante e molto affascinante, come lo è tutto il mondo del vino. Quindi se questo mestiere ti piace, mi raccomando, sulle maniche e vedrai che piano piano ti inserirei nell'ambiente. Ricorda che la disoccupazione non esiste, esistono solo competenze che devi ancora acquisire. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, metti like, lasciami un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!